Ciao a tutti, bentornati al mio canale, io sono Gerli e sì, oggi vi starò raccontando un po' di me rispondendo a queste domande. L'altro giorno ho chiesto su Instagram se mi potevate fare qualche domanda e poi ho fatto così, tipo un puzzle, e ho creato questo tag che si chiama La mia prima volta. Questo è un tag che è andato di moda tanto tempo fa, però io a quell'epoca non l'avevo fatto, quindi ho deciso di creare il mio. Quindi detto tutto questo, iniziamo! Ok, la prima domanda, la prima volta al mare. E sì, va bene, la prima volta al mare ebbe successo tipo quando io avevo 7 anni e mia sorella aveva compiuto 15 anni a quell'epoca e in Venezuela si utilizza o fare una festa o un viaggio e i miei nonni hanno deciso di farle questa sorpresa a mia sorella, portarla al mare. E indovinate chi è andata? Sono andata pure io a quel viaggio e quindi era la prima volta che ci sono stata. Io già sapevo per le mie cugine che l'acqua era salata, quindi il mio primo incontro col mare, già sapevo cosa aspettarmi, sapevo che era salato, che c'erano queste onde e essendo mare aperto devo stare molto molto attenta. Per le ragazze o i ragazzi che sono nuovi qua nel canale vi dico e vi informo che io abitavo nella zona occidentale del paese che fa confine con Colombia, quindi non avevo il mare ma tutta la cordilliera andina, quindi io per andare al mare dovevo fare un bel viaggio e quindi quella fu la mia prima volta al mare. La prima volta in aereo, va bene, in famiglia sempre facevamo questi viaggi almeno una volta all'anno, magari a volte due, e di andare al mare, sulle coste venezuelane, essendo il mar aperto, il mar dei carabili aperto, quindi non avevamo avuto necessità di andare in aereo. Il viaggio lo facevamo in macchina, quindi mio padre portava la macchina, aveva una station e vagon molto molto capiente, entravamo quasi tutti lì e così percorrevamo il connezzone del Venezuela ed ecco perché io da piccola non avevo preso mai l'aereo. L'aereo l'ho preso già da grande, avevo tipo 22 anni forse e sono andata a Caracas, quindi San Cristobal, Caracas e il viaggio ci fu tipo 40-45 minuti, non avevo paura, non ho sentito niente, quindi per me era come salire su un pullman e niente, quindi niente, niente, quella è stata la mia prima volta su un aereo. Sì che mi ero informata con un collega di lavoro, le dicevo come si fa il check-in, le chiedevo di aiutarmi, di dirmi come si fa il check-in, come fare certe cose, perché era la mia prima volta, viaggiavo da sola, quindi non conoscevo nessuno che viaggiasse quel giorno lì, come per chiedere, allora questa persona mi ha aiutato tantissimo. E così ci fu che io sono salita per la prima volta sul mare, no, sull'aereo. Il mio primo gelato? Allora, una domanda un po' strana, però va bene, il mio primo gelato sì, sicuramente perché io adoro i gelati, io adoro i gelati. Allora, questa è una domanda che sarebbe stato bello se mamma o papà ci fossero qua seduti accanto a me per rispondere a questa domanda, però no, comunque ho chiesto. In pratica il mio primo gelato avevo tipo 5-6 mesi, ero in braccio a mio padre, stavamo in Colombia, in una città, stavamo lì facendo, non lo so, io non lo so che facevo, io avevo un bebedì di 5-6 mesi e mio padre mi teneva così e ha sentito che io mi muovevo e quando sono andata a guardare ero io che andavo così con la mia bocca, perché a fianco mio padre c'era qualcuno che mangiava il gelato, c'era con il cono e io volevo la mettere la mia bocca, quindi mio padre penso che mi abbiano comprato un gelato così come per assaggiarlo, quindi io sin da piccola, da piccolina, piccina, piccina, ho adorato il gelato. Il mio primo bacio, allora, ci credete o no? Il mio primo bacio l'ho dato a papà, perché lui mi stava portando a scuola e lui aveva tipo una macchina, adesso si puso, inserisco una foto, non di quella di papà perché adesso non ce l'ha, mio padre non ce l'ha, però a qual'epoca era una macchina tipo così e io mi ricordo che stavo accendendo, cioè lui guidava, io stavo dietro, non so, alzata e quando siamo andati per salutare, certamente in Venezuela se ne dà un bacio, non due come in Italia, se no uno, non lo so che mi abbiamo fatto, ci siamo baciati un po' così qua e io ho fatto così, ho sentito i baffi qua e va bene, cioè mi sono vergognata da morire, però va bene, le cose che capitano, queste cose capitano, io sono stata elevata a non baciare mio padre in bocca, cioè mio padre veniva e mi dava un bacio qua, a volte qua, però diciamo quello è stato il mio primo bacio, e sono contenta che ci sia stato mio papino, a mio bacino qua, proprio qua perché so che alcuni papà adesso li danno bacetti ai suoi figli, alle sue figlie e ai suoi figli perché ho visto e va bene, penso che sia una dimostrazione d'affetto molto molto carina. Prossima domanda! Il mio primo trucco, quindi se ho detto mi vedete un po' truccata, io adesso sono truccata e solo che non si nota, non si nota anche perché ho le ciglia molto molto corte, cioè è impossibile avere queste ciglia così all'insù, ancora non ho trovato in maschera adatto. Allora, il mio primo trucco, lasciando stare quelli, cioè facendo da parte quelli che si fanno per le bambine, come per i giochi, anche se io da piccola non è che mi truccavo nemmeno giocando così tanto, io truccavo più le mie bambole. Allora, allora, penso che avevo 19 anni quando ho deciso di truccarmi, perché io prima mettevo sempre il rosetto, sempre l'ho messo, sempre, sempre. Penso di avere 19 anni quando sono andata a comprare la mia prima palette e mi ricordo che era sui toni tipo terracotta, perché a quell'epoca era molto di moda il color cioccolato sui capelli, sul viso, sulle labbra, cioè dappertutto. E mi ricordo che il primo giorno che mi sono truccata, cioè mi sono vista diversa, a quell'epoca ovviamente non c'era YouTube per vedere qualche tutorial, quindi non lo so come ho fatto, però mi era piaciuto. E da lì in poi ho iniziato a truccarmi così tanto, 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 fino a che un giorno, non mi ricordo perché, oddio non mi ricordo, ma io c'ero nella stazione dei Pullman, e mi ricordo, ero un po' truccata, non mi ricordo se che era, perché andava di moda, ma non me lo ricordo. E mi sono incontrata due ex compagne dell'università e io li ho salutato, queste qua non mi riconoscevano. Mi dicevano sei un'altra persona, sei un'altra persona. E se non era per la mia voce, cioè, non lo so chi hanno visto loro in me, forse mi truccavo tanto, tanto, che al vedermi senza trucco... E allora quella cosa mi colpì un po' tanto, e da lì in poi ho iniziato ad andare piano, cioè, un po' di qua, un po' di là, e basta perché non mi ci vedo truccandomi come prima. Penso che sia stata una fase molto molto carina nella mia vita. Algun giorno ricomincerò a truccarmi? Sì, sicuramente, però vorrei fare prima un corso di autotrucco, cioè, per truccarmi io, perché seguendo i tutorial, almeno io, non sono capace. Andiamo a vedere qual è la prossima domanda. La mia prima, nell'art di questo, già ne ho parlato, mi sembra che quando avevo il vlog, tanto, tanto tempo fa, già quel vlog, già non ci scrivo più, ho perso addirittura la password per entrare, non lo so, mi sembra che avevo due vlog. Ho fatto un pasticcio e l'ho lasciato stare, va bene, non l'ho scritto più in più, perché scrivendo in italiano, cioè, perdemo molto molto tempo. Non che io non lo sappia scrivere, però che mi piace dedicare tempo alla scrittura, scrivere bene le doppie lettere, va bene, tutte quelle grammatiche italiane che sappiamo un po' che è un po' difficile, e soprattutto per me. Allora, la mia prima nell'art, penso che avevo tipo, non lo so, tra i 5 e i 10 anni, io mi ricordo che tagliavo le cannucce, le tagliavo, le attaccavo sulle unghie, e c'erano questi pezzettini d'unghie, finte che si attaccavano, quindi penso sia stato quello. Da lì ho iniziato. Poi dopo ho iniziato sempre con il monocolore, già avendo una certa età, ho iniziato con il monocolore sulle unghie, fino a che un giorno ho iniziato ad andare dall'estetista, e ho visto lei come faceva i fiorellini. e mi ha attirato molto molto l'attenzione, siccome sempre andavo di là, cioè una volta alla settimana andavo a farmi le unghie con lo smalto normale, e solo guardandola ho imparato, eppure io ho iniziato a fare i fiorellini per me, e non ci sono andata più dall'estetista, in più perché di questo ne parlerò più avanti, però ho avuto tipo un tipo di fungo su un'unghia per 22-3 volte che l'unghia mi è caduta tutta, 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 va bene, di questo ve ne parlerò più avanti. Quindi penso che avevo tipo 22 anni, perché io già stavo lavorando in una costruttura, cioè io stavo lavorando in un ufficio, e mi sono laureata a 21 anni, quindi penso che 21 anni e mezzo per 22, penso che è stata quell'epoca la prima volta che ho iniziato a fare dei fiorellini da lì in poi, va bene, già la storia la conoscete. Andiamo a vedere qual è la prossima domanda. Il primo viaggio. Allora, il mio primo viaggio, mamma mia, mamma mia, allora il mio primo viaggio, come ho detto, è da piccole, sempre sempre viaggiamo in famiglia. Quello che io mi ricordo, primo viaggio, è difficile, è difficile. Potrei dire quali sarebbero i viaggi più lunghi, vi potrei dire qual è stata la prima volta che sono uscita al di fuori del Venezuela. Per il primo viaggio, sinceramente, non lo so, cioè mi vengono dei flash così quando i miei cugini si sono trasferiti in un'altra ragione, quindi per andare da loro dovevamo viaggiare tipo per sei ore in macchina. poi sempre per le ferie, per le vacanze di la settimana santa o magari per quelle d'estate, anche in Venezuela fa sempre l'estate, però si intende l'estate tra luglio e settembre per poter viaggiare, quindi sempre, sempre ci siamo stati, sempre siamo andati al mare e anche in montagna, però poche volte, ma di solito sempre era il mare, a me piace tantissimo il mare. E c'ho, cielo dei bei ricordi. E' la mia prima volta con i tacchi. Allora, in Venezuela si utilizza molto che quando arriviamo ai 15 anni e si fa tipo un festeggio, si fa la festa e si fa questa maniera in che il papà le mette le scarpe alla figlia, non lo so se avete visto la quinceaniera, mi sembra che tipo 2-3 anni fa in Italia c'era questo... mi sembra che era il surreal, va bene, non mi ricordo se era questo... questo programma che parlava di questo. Va bene, io, certamente io a 15 anni ho iniziato a portare i tacchi, ma così piccolini perché mamma non voleva che io portassi quelli più alti. Però sicuramente mi ero allenata prima con i tacchi di mamma, cioè chi è che non l'ha fatto bene, ma magari quando avevo 10 anni o 12 mettevo i tacchi della mia mamma. Però sì, diciamo già così, già per andare ed uccidere con i tacchi e soltanto lo facevo se avevo una festa e se hai 15 anni perché già poi andavo sempre senza tacchi, cioè la scarpa o bassa o le sportive, così basse. E poi, dopo i 19 anni, ho iniziato sia a truccarmi a portare i tacchi, che lì già mi sono rivoluzionata un po' con l'outfit, con i capelli. Cioè, ho cambiato a 19 anni, penso che ho cambiato io. E va bene, le domande sono finite, ho cercato di trasformare quelle domande che mi hanno fatto in uno storytime. Un'altra ragazza mi aveva chiesto di fare un storytime ed è per questo che ho voluto raggruppare tutto, alcune domande un po' così che mi hanno fatto in maniera di raccontarle come storytime. Va bene, il video è finito qua e spero che vi sia piaciuto, di avervi mantenuto un po' di compagnia. se ti è piaciuto lasciami un like, condividi il video, iscriviti al canale qui sotto, cliccando cliccando giù sotto sopra il bottoncino che dice iscriviti anche se qua compare la lettera in inglese perché ancora non ho trovato uno in italiano. Va bene, io vi mando tanti visiti e ci vediamo prossimamente in un prossimo video. Ciao!